Come si registra in contabilità con il meccanismo della partita doppia l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto? Quali sono le scritture esattamente che devo fare? Vediamolo assieme. Andiamo a vedere quali sono appunto le scritture che devo fare per andare a evidenziare l'IVA sia sugli acquisti sia sulle vendite e poi anche la liquidazione IVA per andare a vedere se devo pagare o meno l'IVA. Quindi l'IVA che è appunto l'imposta sul valore aggiunto, che cos'è? È in sostanza un ricarico che viene fatto nel momento in cui acquisto dei beni o dei servizi e quello sarà un credito che io ho verso lo Stato e poi è un ricarico che io faccio invece ai miei clienti nel momento in cui appunto vendo i miei beni e i miei servizi. In quel caso quello che mi viene dato dai miei clienti sarà un debito che io ho nei confronti dello Stato. Poi ogni mese faccio una differenza tra quello che ho comprato e quello che ho venduto, quindi l'IVA sugli acquisti e l'IVA sulle vendite e vado a vedere se appunto la differenza fa sì che io debba versare l'IVA allo Stato oppure se ho un credito appunto verso lo Stato. Quindi andiamo a vedere come appunto fare le registrazioni di questa IVA, come evidenziare questa IVA a credito e a debito. Quindi ipotizziamo di fare due operazioni, un'operazione di vendita e un'operazione di acquisto. Quindi ipotizziamo di fare un'operazione di vendita di 20.000 euro più IVA Quindi l'IVA ipotizziamo che sia in entrambi i casi il 22% perché ci sono diverse percentuali per quanto riguarda l'IVA, quindi l'aliquota che poi è il termine corretto legato appunto a questo concetto di percentuale, l'aliquota ordinaria è il 22% ma ci sono casi in cui è più bassa, quindi c'è il 10%, il 5%, il 4% e in certi casi anche 0%, quindi operazioni esenti o anche non imponibili IVA. Quindi in questo caso diciamo che l'IVA è il 22%, quindi in questo caso avremo un'IVA di 2.200 euro, in questo caso avremo 4.400 euro di IVA. Quindi un totale della fattura che nel caso dell'acquisto sarà 12.200 euro e nel caso della vendita sarà 24.400 euro. Quindi 12.200 euro e 24.400 euro. Ora andiamo a fare la registrazione appunto della fattura di vendita e della fattura di acquisto. Partiamo dalla fattura di vendita, quindi ipotizziamo che abbiamo venduto della merce, quindi andiamo a fare la nostra registrazione con tre conti, quindi avremo il conto del ricavo che è l'imponibile della fattura, quindi avremo merce conto vendite che sarà un ricavo, quindi un avere del conto economico, quindi va nel conto economico, quindi avremo 20.000 euro qui in avere. Poi avremo l'IVA. L'IVA in questo caso sarà IVA sulle vendite. IVA sulle vendite è uno stato patrimoniale che rappresenta un debito che io ho, nel senso che io ho questi soldi che vado a incassare dal mio cliente, non sono soldi che posso tenermi, sono soldi che il cliente mi dà ma che io devo versare allo Stato, quindi è un debito che io ho nei confronti dello Stato, i debiti nello Stato patrimoniale vanno in avere a destra, cioè 4.400. metto qui. Per rispettare il meccanismo della partita doppia dovrò necessariamente avere qualcosa in dare, nel senso che io ho registrato 20.000 in avere, 4.400 in avere, avrò 24.400 in dare, che sarà un credito verso il cliente che poi pagherò appunto. Questo è uno Stato patrimoniale. Ora, questa è la scrittura della fattura di vendita, andiamo a vedere invece la scrittura della fattura di acquisto, quindi molto simile, tutto ribaltato, cioè quello che va in dare adesso va in avere, quello che va in avere adesso va in dare, quindi cosa abbiamo? Abbiamo un merce conto acquisti in questo caso, poi avremo un IVA sugli acquisti e poi avremo un debito verso il fornitore. Ora, quali scritture dovremo fare? Sicuramente il merce conto acquisti, se qui abbiamo un ricavo, qui abbiamo un costo, quindi 10.000 euro sarà un costo sempre del conto economico che vado a posizionare qui. 10.000 euro. Poi cosa avrò? IVA sugli acquisti, quindi se qui avevo un debito, l'IVA sugli acquisti, se ovviamente è un acquisto inerente, quindi posso detrarmi completamente l'IVA, sarà un credito, quindi avrò 2.200 euro di IVA a credito. Ultima scrittura che devo fare è, appunto per rispettare il meccanismo della partita doppia, la quadratura, quindi se io ho messo 10 più 2.200 in dare, dovrò mettere necessariamente 12.200 in avere, che poi non è altro che il debito verso il fornitore, che poi andrò a pagare in un secondo momento. Ma non è questo l'aspetto che ci interessa, il pagamento del cliente e del fornitore. Quello che ci interessa è andare a vedere come gestire l'IVA. Quindi cosa devo fare? Adesso, ipotizzando di avere solo queste due operazioni, un'operazione di vendita, un'operazione di acquisto, devo fare la cosiddetta liquidazione IVA. Quindi ogni mese io devo andare a vedere il totale dell'IVA sulle vendite, il totale dell'IVA sugli acquisti, e fare una differenza, andando a vedere appunto se devo pagare oppure no appunto l'IVA. Quindi cosa devo andare a fare? Sostanzialmente devo andare a chiudere questo e questo, andando a evidenziare un nuovo conto, la cosiddetta liquidazione IVA, oppure erario conto IVA, insomma qui poi i nomi dei conti sono abbastanza personalizzabili. Importante è andare a capire che cosa c'è all'interno. Diciamo che nel conto erario conto IVA è il conto che io ogni mese vado a evidenziare per andare a capire se devo versare o meno l'IVA. Quindi come faccio a capire se devo versare l'IVA oppure no? Devo andare a, appunto, come ti dicevo, chiudere questi conti. Per chiudere questi conti metto il valore dalla parte opposta, quindi chiudere intendo dire portare a zero. Quindi qui metterò 4400, qui metterò 2200 e come vedi li ho annullati, poi chiaramente devo andare a quadrare, quindi se io ho messo 4400 qui, 2200 qui, mi manca un 2200 a destra, cioè in avere, che appunto sta qui. Quindi come vedi io ho, che cosa, questo è uno stato patrimoniale, io ho un debito IVA di 2200, che non è altro essere la differenza tra l'IVA sulle vendite e l'IVA sugli acquisti. infatti l'imposta sul valore aggiunto si chiama così, cioè l'imposta che va a colpire il valore aggiunto, nel senso che va a colpire appunto il valore aggiunto che io faccio tra gli acquisti e le vendite, cioè io ho comprato 10.000, vado a rivendere a 20.000 euro, ho creato un valore aggiunto di 10.000 euro, cioè questo, meno questo, e infatti il 22% di 10.000 euro è 2.200 euro, che è il valore aggiunto appunto dell'operazione, che è quello che devo andare a pagare. Quindi in questo caso noi abbiamo una situazione in cui abbiamo un debito di IVA, per il semplice fatto che abbiamo un IVA sulle vendite che è maggiore dell'IVA sugli acquisti. Forse è stata una situazione opposta, cioè quindi ipotizziamo 2.200 qui e 4.400 qui, avrei avuto praticamente 2.200 euro qui, quindi avrei avuto un credito IVA che me lo sarei riportato al mese successivo. In questo caso abbiamo un debito, quindi quando devo versare questi 2.200, devo versarli entro il 16 del mese seguente, quindi se io sto facendo questa liquidazione in questo mese, di questo mese, la faccio all'ultimo giorno di questo mese, entro il 16 del prossimo mese devo andare a versare tramite modello F24 questi 2.200 euro. Se il 16 del mese successivo dovesse essere un giorno festivo, verso entro il giorno lavorativo successivo, cioè il 17 o anche il 18 se il 16 dovesse essere per esempio un sabato. Questo diciamo lo faccio ogni mese nell'ambito diciamo tradizionale, cioè tutti lo versano ogni mese, però in certi casi potrei optare per una liquidazione trimestrale, in certi casi se io ho dei fatturati inferiore a certi importi, cioè se ho un volume d'affari inferiore a 400.000 euro se faccio servizi, prestazioni di servizi, 400.000 euro annui e 700.000 euro se vendo altro, quindi tendenzialmente dei beni, allora anziché fare questa liquidazione ogni mese la posso fare ogni tre mesi, quindi per esempio gennaio, febbraio, marzo metto assieme tutte le operazioni di gennaio, febbraio, marzo e verso attenzione in questo caso non entro il 16 del mese seguente la fine del trimestre ma entro il 16 del secondo mese seguente la fine del trimestre, quindi gennaio, febbraio, marzo verso entro il 16 di maggio sempre con la precisazione che se il 16 maggio dovesse essere un giorno festivo verserò il giorno seguente. L'ultima precisazione è che però nell'ambito della liquidazione trimestrale io non vado a versare proprio la differenza tra l'IVA sulle vendite e l'IVA sugli acquisti ma devo maggiorare questa differenza di un 1% che sono interessi passivi che io devo pagare appunto perché non sto pagando ogni mese ma sto pagando appunto ogni 3 mesi quindi queste sono le scritture che devi fare per l'evidenziare per evidenziare l'IVA sulle vendite sugli acquisti e per fare la liquidazione IVA andando a evidenziare un credito un debito tramite il meccanismo della partita doppia quindi se questo video ti è stato utile per capire come registrare quella partita doppia l'IVA lascia pure un bel like che mi fa piacere se vuoi non perderti nessuna delle prossime lezioni di questo canale ti invito a iscriverti al canale e attivare anche la relativa campanella se invece vuoi ricevere in modo completamente gratuito le prime 4 lezioni del mio corso di contabilità online in cui vado a spiegare tutto quello che c'è da sapere sull'IVA tutte le scritture ma moltissimi altri argomenti allora trovi nella descrizione di questo video un link in cui se lasci appunto la tua email riceverai le prime 4 lezioni in modo completamente gratuito ti aspetto alla prossima lezione ciao